Gentili telespettatori, buona giornata. Mario Draghi e Giancarlo Giorgetti sono stati beccati da una telecamera con una grande messa a fuoco, un ingrandimento notevole, che stavano ridendo tra i due mentre Giorgetti mostrava a Draghi un qualcosa sul telefonino. È stato scoperto il motivo delle loro risate e di che cosa stavano guardando sul telefonino proprio perché è stato fatto un ingrandimento e si è visto anche un po' confusamente, però si è riuscito a capire che cosa stavano guardando sul telefonino. Un articolo che svela molte cose. Giorgetti è seduto alla destra del Premier. Si danno del tu, si conoscono da tanto, si dice che sia proprio stato Giorgetti a convincerlo a prendere in mano il governo perché non ne voleva sentir parlare. È proprio Giorgetti che lo consiglia, si danno del tu, il Premier dà del tu solo a Giorgetti e a Brunetta perché con Brunetta si conoscono da una vita e con Giorgetti dai tempi di Banca Italia. E quindi è proprio Giorgetti che gli ha detto, no, guarda non fare questo, non dire questo perché il Premier sta ancora imparando quali sono le dinamiche parlamentari. Ma così si sono divertiti anche guardando qualcosa sul cellulare che li ha fatti sghignaziare. Ma stavano guardando una rassegna stampa. Ma di che cosa? È ovviamente D'Agospia a sguazzare nel pettegolezzo politico di alto livello e con l'aiuto dei fotografi appollaiati in piccionaia a Palazzo Madama ha colto in flagrante il numero due della Lega da tempi non sospetti molto vicino a Draghi. Mentre erano divertiti durante la seduta per la fiducia guardando il telefonino. È stato fatto l'ingrandimento e si è capito di che cosa stavano guardando. Che cosa mostrava lo smartphone? Niente di imbarazzante, ci mancherebbe, ma qualcosa di significativo. Tutti leggono D'Agospia, strilla Roberto D'Agostino, che è il titolare, diciamo, di questo sito, D'Agospia. Così ieri al Senato Giancarlo Giorgetti mostrava a Mario Draghi un articolo tratto proprio dal sito D'Agospia. E proprio D'Agostino dice un articolo tratto da questo disgraziato. Sito. Quale? La sorpresa è che parlavano di Umberto Bossi, l'ex fondatore capo della Lega che un po' a sorpresa si è esibito in un'entusiasta dichiarazione proprio a favore di Draghi, dicendo sono a favore del presidente, lo sosterrò e sosterrò le scelte che farà in futuro. E se la Lega, come confermato dallo stesso Salvini, abbraccia la svolta europeista, l'Europa è casa nostra ma non quella a austerità e dei vincoli, ha chiarito in aula il Capitano, forse è vero che dopo tre anni di atribe anche Draghi forse è intenzionato a spostare un po' più a nord il baricentro del governo. Quindi questo è quello che è successo, che avevo visto un articolo che non riuscivo più a trovarlo proprio su questo. Intanto, ad esempio, vediamo che Vittorio Feltri dice tutto irreversibile, come dice Salvini, tranne una cosa. Quindi Vittorio Feltri è allusivo a quello che prosegue al cinguettare sul governo di Mario Draghi. Tweet dopo tweet il direttore di Libero continua a mostrare il suo scetticismo verso questo governo che aveva detto questo governo mi fa schifo e vergognoso, con i vari Roberto Speranza, Luigi Di Maio, Luciano Lamorgese, solo per dire alcuni dei nomi che aveva citato proprio il direttore di Libero, dicendo si tiene l'incapace Speranza, così i vaccini non li avremo mai, dice Vittorio Feltri. È un errore che pagheremo sulla pelle degli italiani. Ma Feltri tira in ballo anche Matteo. Salvini dice tutto irreversibile, come dice Salvini, tranne la cattiva politica italiana. Il riferimento è alle parole del leader della Lega sull'euro che diceva irreversibile, di irreversibile c'è solo la morte. Parola a cui Draghi ieri in senato aveva replicato indirettamente, dicendo che l'euro era irreversibile. Poi Salvini non ha risposto, come probabilmente avrebbe fatto in altri casi, ma per questa nuova linea politica che ha, ha preferito non mettersi subito il primo giorno a battibeccare con il Premier. Bene, quindi nei giorni scorsi Feltri si era rivolto a Salvini chiedendogli se fosse soddisfatto del governo estratto dal cilindro da Draghi. Domanda retorica che Feltri soddisfatto non lo è affatto. E così, dice, il discorso di Draghi mi ha stufato come un programma di Rai 3, ragione per la quale ad un certo punto Vittorio Feltri ha deciso semplicemente di spegnere la televisione e di smettere di seguirlo, così come raccontano nel video per Libero TV che potete poi vedere in internet se siete poi interessati. Bene, vedremo quello che succederà in questi giorni perché le cose stanno cambiando, la scissione del momento 5 stelle porterebbe praticamente alla fine di quella sorta di alleanza che aveva pensato e immaginato il PD, perlomeno un'alleanza con magari una metà del Movimento 5 stelle e con l'EU che è un partito piccolo. Quindi diciamo che il PD sta rimanendo orfano del Movimento 5 stelle, perlomeno vedremo quello che succederà. Ormai hanno buttato fuori oltre 40 politici e ne stanno per buttare fuori altri, quelli che non hanno pagato, quelli che erano assenti ingiustificati, quindi queste cifre potrebbero anche raddoppiare, arrivare anche a 80 e 80 su 300 comincia a diventare quasi un 25%, un politico su 4 dei 5 stelle, cacciato per diversi motivi. Quindi vedremo quello che succederà perché questi numeri sono in meno e porteranno questo nuovo partito che si scinde dai 5 stelle ad andare all'opposizione. Ecco, ci sono già due simboli che hanno trovato, uno di Italia Viva e l'altro di un partito che si chiama Alternativa perché devono essere dei simboli che sono già depositati, che sono già alla Camera e al Senato. Quindi se uno deve formare un gruppo durante una legislatura deve prendere i simboli che ci sono ovviamente chiedendoli a chi li detiene il permesso di poterli utilizzare, di potersene appropriare. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.